Il piano operativo sanitario elaborato dal presidente commissario Paolo Frattura sta scatenando la sollevazione popolare. Cittadini, comitati, operatori sanitari, amministratori locali, tutti insorgono contro gli annunciati tagli ai posti letto degli ospedali pubblici a vantaggio delle strutture private. Non solo ospedali come quello di Venafro e Larino verrebbero drasticamente ridimensionati con le immaginabili conseguenze per i cittadini che hanno necessità di curarsi o di prenotare visite specialistiche. Siamo andati in giro tra la gente per capire cosa ne pensa di quanto sta accadendo alla sanità molisana. Agli ospedali pubblici in particolare la risposta è una sola, gli ospedali non si toccano. Quello pubblico e quello privato deve funzionare, se non funziona che fa? Secondo lei funziona il nostro ospedale? Insomma, un po' buono e un po' malattro, come si dice, che mi fa? Per me sto al contrario, la stava aperta. Che non devono tagliare niente, perché poi soldi non ce ne sono. Siccome dobbiamo ricoprire il deficit accumulato in sanità, tagliano i posti letto? Così, e non è giusto, perché la gente non può andare in altri posti. Non abbiamo neanche la possibilità di poterci andarci, mancano i soldi. La sanità pubblica non va a smantellare? Nel modo più assoluto, per me no, assolutamente no. Che già deve avere un posto e ci vuole. Poi vogliono pure togliere. No, non è giusto. Nel modo più assoluto. Che sta succedendo? Che non si capisce niente. Chi meglio può rubare roba? Che posso dire? Ormai non abbiamo più nulla da dire. Gli ospedali pubblici comunque devono rimanere, secondo lei? Come no? Devono rimanere per forza. Che l'ospedale della Rino non lo ha. No. Devono rimanere. Perché? Io sono stato ricordato all'ospedale. Un povero paziente che veramente aveva bisogno. Da là lo hanno mandato alla Rino. Perché là l'ospedale lo hanno mandato alla Rino. Ma se non dicevo l'ospedale della Rino, a quello pure, la doleva una mannata. Alla casa e al loro. Ho detto tutto. La gente esasperata c'è chi davvero non ne può più. Sono tutti ladri, ladri tutti politici, assassini.